Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Elvio Girardi. A questo punto la prima domanda sorge spontanea. Se dovessi descrivere oggi per chi non ti conosce, chi è Elvio, come lo descriveresti? Un artista emergente che viene da un passato nel background della musica romana come cantautore per altre situazioni e poi conosciuto anche per diversi tributi agli U2 che hanno girato per tutto quanto al centro Italia. E a questo punto parliamo del primo inedito che incidi, senza esagerare. Vogliamo esagerare come nasce questo brano e da cosa è tratto ispirazione per poi arrivare a questo risultato finale? Sì, allora guarda, la canzone è autobiografica, tratta di una situazione personale che mi è successa circa nel 2008. Una relazione che avevo con una ragazza che all'inizio era tutto quanto bellissimo, perché sai all'inizio è tutto quanto bello, no? Poi piano piano che si conosce una persona è calata la maschera di questa ragazza ed è venuto fuori insomma un comportamento ossessivo nei miei confronti che mi ha cominciato a stalkerizzare a tutti quanti gli effetti tipo facendomi degli appostamenti sotto casa con la macchina fino alle 4-5 di mattina e tutto quanto. Insomma, queste vicissitudini mi hanno portato a scrivere questo testo che avevo lasciato da una parte dentro un cassettino ben nascosto che è venuta fuori l'anno scorso e anche grazie a Moreno del Signore che è il mio insegnante di canto e nonché fondatore delle etichette Risvegli Records abbiamo messo insomma a mano a questo testo e due o tre settimane la canzone ha preso vita. Nella realizzazione dei testi, in questo caso, ma anche nei successivi è più facile scrivere testi lunghi oppure, come nell'inglese, essere un pochettino, non diciamo crudi, ma un po' sintetici? Ma guarda, allora, è una cosa molto soggettiva secondo me, molto soggettiva da artista da artista perché io per esempio trovo molto più semplice scrivere in inglese anziché in italiano. Questo qua almeno per quello che sono io. Però poi una volta che si comincia a comporre magari uno parte da una melodia, poi dopo si scrive il testo o viceversa. Io trovo molto più agevole a me stesso scrivere giù un testo che poi lo vesto intorno alla melodia. Poi è la melodia che prende il vestito e quindi mi permette di prendere quel testo e adattarlo alla musica. Infatti la domanda successiva nascono prima le parole, nasce prima il rit, un beat, oppure nasce da... Ma dipende, ma dipende da volta in volta. Guarda, a volte hai una melodia in testa mentre stai suonando, mentre così canticchi, oppure a volte stai guardando o pensando a qualcosa e viene prima il testo che la melodia. Non c'è una regola fissa per questa cosa. Voi hai iniziato a suonare, hai iniziato, come cover band. noi non siamo molto propensi per il cover band, ma non perché non ci piace l'artista. Però noi prendiamo più l'originale. Anche se... Voi hai iniziato con Zurope, il titolo dell'album degli U2. Sì, quello è stato il primo tributo agli U2 che ho fondato io nel 2015, poi nel 2016 ha fatto il primo live, però già venivo da prima. Io ho iniziato a suonare e canticchiare quando avevo otto anni, pianoforte, scuola di chitarra, diverse cose, diversi gruppetti quando uno è adolescente, li fa e quindi... Poi la cosa seria si è fatta così seria quando ho fatto gli Zurope prima e poi quando sono entrato nei Silver & Gold che è il tributo più importante degli U2 del centro Italia. E a questo punto un'altra semplice domanda, poi passiamo oltre. Ma qual è stata la tua prima sensazione o il momento diverso, particolare, che ti ricordi in un live che hai assistito degli U2? Perché facendo il tributo band sicuramente poi hai assistito ai live degli U2. Molti. Ne ho fatti circa una trentina tra Italia e tutta quanta Europa. Il momento più particolare che ti ricordi, è un momento emozionante che o diverso rispetto a tanti live ci sono? Ma guarda, ce ne sono tanti. Che ti posso dire? Quando una volta eravamo a Dublino, anzi no, scusami, a Londra, che Bono cantò insieme a Patti Smith, mentre quando venne a Roma che fece una dedica a zucchero oppure fece festeggiare il compleanno della figlia ai 18 anni sul suo palcoscenico con uno stadio pieno con circa 100.000 persone. Di momenti ce ne sono tantissimi, quindi ricordarne così su due piedi non è facile, però sono tutte quante emozioni che porto dentro di me, perché ogni concerto degli U2, la cosa bella loro, è sempre differente. Non trovo mai una cosa uguale a quella che hai visto prima. Invece suonare dal vivo, tu hai suonato tante volte al vivo, qual è l'emozione? A volte qualche tuo collega mi dice prima di salire sul palco penso, ma chi me lo fa fare? Poi in realtà quando metti il piede sul palco e davanti si si apre questa platea enorme che poi in realtà a volte è buio perché il palco c'ha le luci, sei teso, sei concentrato. In realtà tu non vedi il pubblico ma lo senti, la sua energia che ti trasmette e tu la ricepisci, involontamente la ricepisci perché qual è la tua sensazione che provi in quel caso? Guarda, allora il preconcerto è sempre abbastanza così teso, tra virgolette, perché poi ovviamente quando sali sul palco devi arrivare preparato, studiare bene i pezzi e tutto quanto, la scaletta che ti sei prefissato, quindi dietro c'è un bel lavoro a monte del concerto. Poi una volta che uno arriva lì, bello, carico e tutto quanto, ovviamente noi abbiamo sempre le luci puntate in faccia, negli occhi, non si vede mai niente, però a un certo punto durante la serata si comincia a capire l'enfasi del pubblico, specialmente poi su alcune canzoni che sono più energiche, più conosciute e tutto quanto, cominciano a interagire in maniera importante e quindi lì c'è una sorta di esposione tra il pubblico e io più che altro che sono il front-end e quindi comincio a cantare con loro, a ballare con loro, quindi c'è una sorta di empatia che si crea, specie come dicevo, su pezzi molto energici che per gli due possono essere, non so, Sunday Bloody Sunday, World Streets Have No Name, Elevation, Beautiful Day, insomma, ce ne sono tante, quindi questa empatia d'amore per gli due, perché poi chi viene a vedere noi è un fan degli due come me, io non sono nient'altro che è un privilegiato che è lì sul palcoscenico a cantare gli due, sono assolutamente quello lì, non ho tanta differenza col pubblico. A questo punto però adesso saranno tuoi fan perché ascolteranno i tuoi brani, i tuoi brani, che è un po' differente perché passare da, a cantare, interpretare, perché voi fate, non rifate il brano identico, ma lo adattate alle vostre caratteristiche, quindi un poettino, date vita a quel brano, a passare a suonare un tuo brano, che dai vita proprio al tuo brano, qual è la tua sensazione a questo punto? Cosa cambierà nelle tue sensazioni? Beh, guarda, quando io canto i brani degli U2 ovviamente porto il loro messaggio, cerco di, tra virgolette, imitare Bono, quello che fai, tutto quanto, anche nel bestiario, e qui invece sono io che finalmente porto al pubblico il mio messaggio, quindi devo esprimere me stesso con il testo, cioè io mi muovo a seconda del testo, guardo la gente a seconda del testo e tutto quanto, tutte le emozioni che io ho dentro provo a trasmetterle come meglio posso al pubblico, quindi cambierà sicuramente questa struttura, questa dinamica, la cosa più importante è che ora il messaggio è il mio, non è più quello di un'altra persona. E la sensazione che hai visto nelle facce di chi ha ascoltato per la prima volta, perché poi una volta inciso l'hai fatto ascoltare, o chi stava in studio già in quel momento, più che con le parole hai visto le loro facce, quelle facce, o quegli occhi, quale sensazione hai provato che loro non ti hanno detto ma è capito a volo nello sguardo? Diciamo che specialmente con i miei compagni di viaggio del tributo agli due quando l'hanno sentito ho visto un po' gli occhi sgranarsi, ho visto quando facciamo oddio, a parte che non canti più in inglese canti in italiano, non mi sembri neanche tuo, questa è la sensazione che mi è arrivata, però ti posso dire che ho colto delle buone vibrazioni un po' da tutti quanti anche perché sono tutti quanti abituati a vedermi cantare gli U2, non sono mai stati abituati a vedermi cantare una canzone inedita poi in italiano, sono stati tutti quanti piacevolmente sorpresi, chi l'ha detto, chi non l'ha detto, però l'ho capito senza problemi. E parlando del live, quando tu scendi al parco poi incontri le persone che non solo ti fanno i complimenti, ma a volte le guardi con quegli occhi che effettivamente sono emozionati e ti vogliono fare il compimando o comunque ti vorrebbero fare delle domande ma in realtà quella domanda non è perfettamente chiara, ma la tua risposta, comunque il tuo gesto li rende comunque felici. Qual è la tua sensazione in quel caso? Ma guarda, diciamo nel post concerto quando scendo perché io cerco sempre il contatto con il pubblico che secondo me è la cosa più importante, c'è chi mi fa le domande, chi mi fa i complimenti, chi mi stringe la mano, chi mi fa un sorriso, ci sono diverse situazioni. Io sono sempre ben disposto a cogliere ogni sfumatura positiva che il pubblico mi vuole trasmettere dall'amico allo sconosciuto, dal conoscente, dal direttore artistico, tutti quanti, quindi io colgo tutto quello che mi viene detto e trasmesso sia a livello fisico che vibrazionale, tra virgolette, perché secondo me è tutto quanto un qualcosa che a me personalmente mi fa crescere, qualsiasi esso sia come segno. A questo punto, oltre a promuovere questo disco, questo singolo, c'è già in lavorazione altri brand, soprattutto anche in inglese? Per adesso stiamo già lavorando da altri due, tre singoli che poi faranno parte di un EP penso tra un annetto circa, però adesso voglio mantenere l'italiano perché ho intrapreso questa strada, poi sicuramente nel mio DNA c'è il rock straniero, quindi prima o poi farò anche qualcosa in inglese. Per questo punto, oltre citando gli due, nel tempo della tua crescita artistica c'è qualche artista che in fondo involontariamente ti porti dietro che non è che hai rubato, ma hai fatto tu un determinato caratteristico o stile oltre a abbono degli due. Guarda, come stili diciamo a parte gli due io sono cresciuto con Michael Jackson, i Queen, i Simple Minds, Guns N' Roses, quindi ascoltavo un po' di tutto quanto, però quando uno inizia a scrivere e a suonare, sì, hai delle influenze sicuramente, però poi quando vai a interpretare una tua canzone rimangono tali, cioè sono influenze, però non sarai mai qualcun altro. Puoi prendere spunto magari su un riff di chitarra, un suono particolare della chitarra, però all'ielo di timbrica, no, ognuno è personale perché io non potrei mai essere buono, non potrei mai avere la voce di Michael Jackson, non potrei mai la voce di Axl Rose, quindi ognuno è unico tra virgolette e ognuno ripropone la musica con la propria anima. Le canzoni io faccio un pochettino la domanda a Marzullo, le canzoni sono un'espressione dell'anima o un stato di vita, un frame di vita quotidiana? Ma per me senza esagerare è stato un frame di vita passata più che altro, quindi è un frame che è rimasto lì, una bella immagine ferma che poi ha riguardato la distanza di tanti anni mi fa veramente sorridere perché uno le guarda con occhi totalmente differenti. Una curiosità, queste piattaforme che ormai sono diventate vita quotidiana perché parliamo di Spotify, YouTube Music, ma in realtà possono essere un trampolino ma nello stesso tempo un'arma a doppio taglio perché c'è il rischio di perdersi nei centomila brani giornalieri che vengono ascoltati? Secondo me è un'arma un po' a doppio taglio perché come dici tu è veramente un mare immenso ed ogni giorno escono tremila canzoni tra virgolette quindi trovare un artista non è molto facile se uno non lo conosce veramente emergere è molto difficile girano sempre quelli più acclamati più famosi per noi emergenti non è facilissimo poi io sono della vecchia scuola a me piacerebbe sempre andare al negozio comprare la cassetta il cd e tutto quanto vedermi la copertina sentire il profumo della copertina sono anche collezionista di vinili quindi con me sfondi una porta aperta in tal senso però purtroppo tra virgolette i tempi sono un po' cambiati anche se ultimamente ho visto un ritorno in voga del vinile che non mi dispiace assolutamente questa cosa noi tanto ti ringraziamo per essere ospite non ti facciamo altre domande alla marzullo perché siamo dopo senza problemi e a questo punto prima cosa ci mancano due cose fondamentali i tuoi indirizzi dove poterti raggiungere e comprare il singolo e soprattutto i saluti finali sì allora per ascoltare il mio singolo basta andare su tutte le piattaforme digitali spotify youtube amazon apple e via dicendo invece per seguirmi sui social su facebook la pagina elvio gerardi music mentre su instagram youtube elvio gerardi poi per l'ultima cosa vorrei ringraziare sia te che il pubblico che ci ascolta e spero di tornare adesso studio set tv e sport picciano game hanno presentato l'intervista di pietro ospite della pietra 1 1 2 1 1 22 0